Noi lo sapevamo che poteva uscire il passato, ma per tre settimane H24 non hai fatto altro che parlare di dieci anni fa in un modo che io non ti ho fatto fatica a riconoscere non solo hai parlato del tuo passato e clissando il tuo presente le persone frentenne per me qui fuori non è facile difenderti e difendermi anche perché potrei anch'io non comprenderti più cioè io sono qua e non è perché ti ho lasciato io non ti ho lasciato con un tweet tu avevi bisogno di ritornare alla realtà ma da questo momento in poi io voglio guardare altro hai capito io voglio vedere altro io non me ne sono andata ma ho bisogno di vedere altro ok c'è il modo quando vado a dormire la sera perché c'è il modo quando mi sveglio il mattino Barbara scusami ma devi uscire scusa scusa barbara l'ultima cosa ma tu vuoi ancora bene alicia vuoi stare ancora con lei io l'amo alfonso puoi uscire barbara grazie ok un problema a un problema alicia un problema